Adorabili amici, oggi vi porto un mazzo da 80 carte con Iorion Sky Nomad. Questo companion si sta dimostrando in standard particolarmente forte, cioè sta performando bene e sta dimostrando che il limite di avere più carte nel nostro deck, che quindi aumentano le possibilità di non trovare le carte che ci servono, vengono compensati dal fatto che a turno 5 abbiamo sempre disponibile questo sgarbatissimo companion. La lista che vi porto oggi è una lista basata sugli elementali, quindi con un po' di sinergie con Risen Reef, una lista che mi sta divertendo parecchio e se vi piacciono le carte con Enter the Battlefield e gli elementali è il deck che fa per voi. Iorion Companion Allora, mazzo da 80 carte. Iorion cosa fa? Ti richiede di avere 20 carte in più della dimensione minima del mazzo, quindi siamo a 80 per poter giocare Iorion. Quando entra nel campo di battaglia esilia un qualsiasi numero di altri permanenti non terra che possiedi e controlli. Rimetti quelle carte sul campo di battaglia all'inizio della prossima sottofase finale, quindi flickerà, nel senso fa riattivare fondamentalmente gli effetti delle nostre carte Enter the Battlefield e fa la mega sinergia con l'agente del tradimento. Se tu riesci a fare agente e poi Iorion fa malissimo, fa malissimo. Partiamo da una cosa un po' più tecnica, cioè che il numero di terre per 80 carte, seguendo la proporzione, è 38. Quindi il grosso delle carte che andremo ad aggiungere in realtà sono terre. Però vedrete che abbiamo diversi modi per, come dire, giocare le terre aggiuntive che eventualmente peschiamo, dalla Brucante Arboreo a Uro, Spirale di Crescita, Barriera Risvegliata. Vedete che la base è un Simic Ramp. Sul Tai perché andiamo a inserire roba spicy, tipo lo Space Godzilla, meglio noto come Broikos, per gli amici Brokkos. Non so perché in italiano non l'abbiano chiamato Brokkos, ma abbiano messo sta maledetta Ypsilon lì a dar fastidio, però Brokkos è molto amato dall'adorabile famiglia. È in versione Space Godzilla, è tamarrissimo. Tra l'altro ottima carta perché contro Control tu lo giochi a 5 e un 6-6 travolgere, te lo ammazzano e tu lo fai tornare tutte le volte per 5 mana con mutazione. Quindi vedrete anche nei gameplay che mana davvero forte, tra l'altro se lo automilliamo con Cavalcante lo possiamo rigiocare dal cimitero. C'è parecchie sinergie, stavo quasi pensando di togliere una tassa e aggiungere il due par di Space Godzilla. E ci potrebbe anche stare, è una carta che mi è piaciuta un botto, Brokkos slash Space Godzilla. Giochiamo anche il nero per giocare Yarok, essendo un deck Enter the Battlefield, Yarok duplica gli effetti di Enter the Battlefield. Ha un'ottima sinergia anche con i vari templi e ottima carta di base che comunque è un 3-5 tocco letale, legame vitale a costo 5. Altre carte nere che giochiamo, giochiamo il trofeo come Removal, Atris, ottimo effetto Enter the Battlefield, ottimo da flickerare con Yorion piuttosto che con tassa, quindi o da raddoppiare con Yarok. E tra l'altro le carte che butteremo al cimitero ci serviranno per rianimare il buon Uro. Questo è il deck nomi italianizzati dove hanno inserito la Ypsilon. Poi, sinergia elementale, fondamentalmente abbiamo la barriera risvegliata, anche Yarok è un elementale. Il druido, che quando riempiamo la board rampa come un piccolo matto, e il cavalcante, quindi elementali, perché c'è la sinergia fondamentalmente con barriera risvegliata, che appunto ci fa rampare tantissimo per riuscire a fare gli agenti del tradimento. Abbiamo parlato di tassa, ci aiuta anche lei a supportare la strategia Yorion di flickerare le nostre creature con Enter the Battlefield. Le migliori, visto che non l'ho detto, sono agente del tradimento ovviamente, cavalcante, che ci permette di rampare e buttare creature al cimitero per Uro, o addirittura direttamente il signor Broccos. Abbiamo anche il lupo cattivo, che contro aggro possiamo rimbalzare per fargli togliere pezzi. E poi appunto Atris, che abbiamo detto prima. Altra carta che non vi ho detto è Oka. Anche lei ha un Enter the Battlefield, cioè quello di mettere food. Food sinergizza col lupo cattivo, ma di base ci può aiutare per guadagnare punti ferita. E' un deck che vuole grindare come un matto, quindi ci sta in alcuni matchup avere più food per guadagnare punti ferita. E in più comunque rampa e ci aiuta a fixare eventualmente il mana. Mana base abbiamo visto che abbiamo parecchi 4x. Vediamo la sideboard, 4x di gabbia del becchino. Va a fare una controsinergia con ad esempio Uro. Però ci sono in questo standard delle strategie degenerate, che ci richiedono di avere il 4x di gabbia del becchino. Fine della legione è molto forte perché esilia. Trofeo dell'assassino, anche quando abbiamo bisogno di altri removal. Abbiamo poi il 3x di grido del calvario, quando abbiamo bisogno di un Aue. E anche lui esilia, importantissimo. E poi abbiamo ancora un 2x di lupo cattivo, quando abbiamo bisogno di più interazioni. Altro companion davvero forte, sottovalutato all'inizio. Cioè avere un mazzo da 80 carte non è più un problema, quando hai assicurato Iorion. Un mazzo tra l'altro molto divertente. Secondo me la versione più forte è quella bant, classica. La trovate ovunque, quindi non ve l'ho portata in video. Però se vi piace, come dire, giocare col nero, o piuttosto fare le sinergie brutte con Barriera Risvegliata, la strategia è sempre quella di flickerare con Iorion la gente, che è una delle migliore carte di Ikoria. Il buon Agent of Trickery. Trovate la lista in descrizione, come sempre. Per esportarla ricordatevi di mettere dalla sideboard alla Companion Zone Iorion, perché nell'export farò questo, così da non aver problemi con il sito. E in descrizione trovate anche il link per i miei canali social, il link per il mio canale Twitch. Per sapere quando vado in diretta su Twitch, seguitemi su Instagram. Giochiamo per primi. Beh, io questa la tengo. Iniziamo col Templio. Lupo cattivo contro Kaira, che sembra essere un... Scherzavo, non è un Gruul. Quindi è un Kaira. Per sicurezza facciamo passaggio. E un Control, che l'unica creatura che gioca sarà Kaira. Bene. Pene. Penissime. Quindi il lupo cattivo è stato male, tenerlo di su. Prendiamo il verde. Il blu. Ho avuto un attacco di... Come dire... Daltonismo acuto. Entra Uro. Mettiamo giù la Pozza. Una delle due. Tappata. Passo. Se fa Kaira, io faccio Yarok. Potrei anche fare... No, facciamo Yarok. Non potrei fare tassa, in realtà. Facciamo tassa. Facciamo tassa. Perché con tassa posso fare i trighi con Iorion. presagio, va bene. Poi fra un po' abbiamo anche gente, dai. Mi piace l'idea di fare tassa con i trighi di Iorion. Uh, togli lui. Io qua mi faccio counterare Space Godzilla. Vediamo. Space Godzilla lo possiamo rigiocare dal cimitero. Fa un botto di robe. E... Tra l'altro abbiamo non sempre il target di Iorion. Carta Brocco, che in italiano si chiama Broikos, che mi spezza sempre il cuore sta cosa. Quindi metterò il gioco in inglese per vederlo qua che si chiama Brokkos. Ah, che bello. Entra cinque. Tre open. Noi non possiamo fare agente, ma possiamo pensare di setappare agente. O almeno provarci. Facciamo Iarok. Se riusciamo a fare agente, Iarok rimane in vita. Ne esultiamo dieci anni, perché abbiamo agente, Iarok e tassa. Terra la teniamo. Tre, sei, sette. No, mettiamo giù. La Fabled Passage invece la teniamo. Eh... Sabbiamo, mettiamo zero. Speriamo che Iarok rimanga in gioco. Tra l'altro esce un altro Omen. Vediamo. Se tipo fa un Planeswalker, tipo Nicole Bolas. Qualcosa. No, Nicole Bolas non lo fa. Ho avuto un Lapsus, perché prima ho giocato contro... Due deck che giocavano Nicole Bolas. E mi piaceva l'idea di rubarglielo. Fa Narset. Vediamo se ci toglie Iarok. Credo di sì. Comunque noi, con agente, gli andiamo a prendere la nostra amica Narset. Ma subito anche. Facciamo anche... Una mana bianco. Terra. Gli prenderemo terra. Gli prenderemo il Trioma. Direi. Fine del turno. E se ci rimane in vita la gente? Vengono cose assurde con Iorion. No, purtroppo la gente muore. Però qua... Quanto ci manca, Uro? Ancora un po'. Cosa bella... Togliamo terra. Cosa bella è che il Witched Wolf riguadagna value perché possiamo scartarlo con Narset. Come l'ho detto? Qua guadagniamo... O peschiamo? Peschiamo, va. Allora, avrei potuto scartare in realtà terra per fare Uro. Ma non voglio togliermi... Non voglio togliermi Brocco dal cimitero. Ora dovrei riuscire a fare Uro invece. Mi piace un sacco la nuova Narset. Resolve. Agent of Treachery. Credo farò agente qua. E gli prenderò... Niente. Agente GG. Noi siamo sulla Drow. Abbiamo solo due terre. Però abbiamo Lifkin Druid. Ma io proverei a tenerla. Proverei a tenerla. Temur. Prego. Peschiamo la terza terra e va bene. Conferma Temur. Lifkin Druid. Confermato Temur. Ho confermato Temur. Facciamo Atris. Vediamo cosa ci fa sciogliere di bello. Contando che noi il prossimo turno abbiamo Cavalier of Thorns. Se la situa rimane questa. Se la situa rimane questa. O eventualmente Iorion. Se lui è Temur Rek. Vorrei vedere un po' di value. Addirittura. Uno. Do, do, do. C'è da dire che a terra siamo a posto, quindi. Ci va bene avere... In realtà ci va bene. Perché abbiamo due pezzi in più per rianimare successivamente Uro. Lui fa Migration Path. Attenzione. Perché Migration Path... Mi dice... Poco sulla decklist di Kumai. Noi vedendo e scherzando siamo a 12 solo di Shockland. Però abbiamo i nostri amici food, abbiamo Uro. Vivian... Uh, sei la lista spicy, vero? Questo però è ottimo perché mi dà value al Witched Wolf. Quindi io ho due... Quattro... Uh, per uno non riesco a fare Iorion. Per uno non riesco a fare Iorion. Potrei anche... Lo accetto, lo accetto. Lo accetto. Lo accetto e faccio l'Uro ora. Così ho 10 milioni di ramp, easy, GG. E avrei fatto io, Iorion, 10.000 robe. Iniziamo noi contro che ruga? Fires sarà un qualcosa di cattivo. Noi la teniamo, comunque, perché abbiamo Lifkin che mi fa fare assai presto la mia amica tassa. Tipo a turno 3. Ok. Vediamo se riusciamo a fare una tassa a turno 3 e a un turno 4 Cavalier che viene rimbalzato da tassa e poi Iorion. Madonna, verrebbe un disastro. Che mi piacerebbe un sacco, però. Tassa, facciamo... No, forse dobbiamo prendere blu. Dobbiamo prendere blu. Attenzione. Non deve toglierci il Lifkin Druid. Lui prossimo turno farà Fires. Prendiamo il Bl. Lui potrebbe rimbalzarci il Lifkin Druid. Se proprio vuole, ma... Ok, no. Sarebbe stato più safe non dargli modo di rispondere facendo Forest. Ma di base riusciamo a fare un Cavalier... No, ce l'aveva il Borrower, tra l'altro. Prendiamo un Freewood Passage. E un agente al cimitero. Fine del turno. Stappiamo. Qua prenderò verde. No, prenderò... Credo ancora blu. O nero, vediamo. O blu o nero. Perché abbiamo un po' di basica in mano. Prendiamo il nero. Se mi rimbalza tassa... Va bene. Mi rallenta, ok. Prendiamo il... Nero. No, ce l'abbiamo... Una unica... Fanculo. Avete capito che non prendiamo il nero. Qua io posso... Tappare giusto. E tenere open eventualmente Assassin Trophy, se voglio togliergli i teferi. Allo stesso tempo però non voglio proprio rampare. Farlo rampare. Quindi io credo prenderò il Tempio. E giocherò... Basta. E giocherò l'altro Tempile. Un altro Cavalier. Basta. Voglio più agenti possibili a sto punto. Lui vediamo se fa Fire, Skyra, tipo. Aveva Fire, Skyra. Kenrit. Allora. Hai danni. Facciamo gli orionvali. E se fa cose troppo, troppo, troppo degenerate, abbiamo Trophy. Adesso attivo perché non ha più Teferi. Teferi. Ok. Prendiamo Tempio. Perché voglio cercare gli agenti. Ok. Vediamo. Pesca. Almeno non siamo morti. Per ora. Per ora. Ok. Veri, veri, bed, però. Va bene. In questo modo posso far questo. Take action. Questo. Questo. Dove però non farò... No. No. Se mi fa removal su gli orion a me va bene perché significa che uso due spell per togliermi gli orion. Ok. E io posso fare gli agente. Doppio agente. Quindi. Gli prendo... Il Fires lo voglio. Il Fires magari lo voglio. E glielo tolgo pure. Tanto sono al top deck. E poi gli tolgo le terre. Togliamo le tarra a tiri. Triple. Lui ha già utilizzato il suo removal su gli orion. Molto meglio su gli orion che sulla gente. Soprattutto perché adesso abbiamo aperto questa sinergia qua. Qua deve vedere... Tiene due top per carità. Trebbe essere qualsiasi cosa. Però qua noi gli togliamo il bone crusher e terra. Oddio. Gli possiamo togliere due terre. Tappiamo e continuiamo a fare gente. GG. Gli possiamo togliere due terre. Ciao. 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 Ciao.